Si è scaramentato sulla città dello Stretto il primo ciclone annunciato in questi quattro giorni a partire da ieri pomeriggio. Non si era mai vista una grandine così massiccia e violenta a battersi sul territorio tanto da lasciare il manto stradale ghiacciato per ore. Da ieri pomeriggio e poi tutta la notte fino a questa mattina un panorama grigio e burrascuso che ha creato numerosi allagamenti nelle arterie urbane principali come la via Lafarina. Le condizioni meteo avverse provengono dal cuore del Sahara e stanno colpendo tutta la Sicilia sudorientale, ragusano, siracusano e catanese per risalire appunto verso l'area dello Stretto a causa dell'arrivo del gelo. È calata la nebbia anche sulla Villa Dante e sulle strade circostanti. Lampioni della pubblica illuminazione che costeggiano lo spazio verde comunale si sono presentati totalmente al buio già alla metà di ieri pomeriggio. Sia dalla via Catania sia dal lato mare gli automobilisti hanno navigato a vista con visibilità alterata dalla nebbia e con rallentamento forzato dai chicchi di grandine. Questa mattina è andato in tilto un pozzetto di derivazione della cabina elettrica pressi Palazzo Palano in via Catania emanando anche un po' di fumo. Villaggi collinari e periferie da sud a nord stanno attraversando molti disagi per via di fognature che saltano in qualunque zona. L'acqua caduta dal cielo in grande abbondanza non è riuscita a defluire opportunamente e le difficoltà per il traffico continuano. Invitiamo la popolazione a prestare attenzione specialmente durante la viabilità nelle prossime tre giornate.